Questa è una storia semplice, eppure non è facile raccontarla. Come in una favola c'è dolore, e come una favola è piena di meraviglie e di felicità. Buongiorno, principessa! Prego, principessa. Avevo perso il carro ormai. Buongiorno, principessa! Andiamo, 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 si, vorrei che ci dicessero troppo tardi. Andiamo tornati a casa, eh? Oh, fermi, siamo prontati, fermi! E la mamma! Una fermata di tre, non può stare a tenere la mamma. Tu lo dici, babbo, che gioco, eh? Ci sono gli uomini di qua, le donne di là, e poi ci sono i soldati, ci danno punti di orario, e se vinci, ci prendi. Le... Tu lo dici, che premio, eh? Allora, amato, vero, nuovo, nuovo. Buongiorno, principessa! Sì, hai visto me? Allora, domani mattina il gioco finisce. C'è la premiazione. Sì, hai visto me? Grazie a tutti.